Un incrocio fondamentale per la città, purtroppo ancora scenario di incidenti, lamentele, in un cantiere aperto che non è un bel biglietto da visita per la città. Il riferimento è alla rotonda di Marcianese che interseca la variante frentana, congiungendo la contrada con l'arteria di Viale Cappuccini. L'opera costata circa 500 mila euro ideata e finanziata dalla provincia è ancora incompiuta e imparziale stato di abbandono, priva addirittura della necessaria segnaletica. Tanti gli incidenti sinora con più casi di pedoni investiti. Gli appelli alla provincia non si contano più, mentre i residenti hanno presentato una raccolta firme per sollecitare interventi mirati. Le promesse sono quelle di routine, dei 25 mila euro destinati ai rallentatori, alla segnaletica verticale ed orizzontale, al completamento dei marciapiedi, nemmeno l'ombra, mentre le auto sfrecciano e qualcuno incrocia le dita.